Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La squadra mobile di Teramo ha arrestato quattro rom residenti nel quartiere La Rocca di Giulianova. Tutti pregiudicati, visto che per loro le manette erano già scattate dopo essere stati colti sul fatto a compiere un furto in un'abitazione di Ascoli lo scorso 13 luglio. Le indagini hanno portato alla luce altri 11 colpi ai danni di villette isolate e ad un negozio. Tutti compiuti tra febbraio 2021 e il 10 luglio dello stesso anno. Furti che sono avvenuti a Teramo, Civitella del Tronto, Notaresco, Tortoreto Alta, Santomero, Castelli, Bellante, Cermignano, Roseto degli Abruzzi e Castellalto. Le indagini hanno consentito di restituire parte della refurtiva alle vittime di sette colpi in abitazione, in particolare orologi di pregio. Uno dei rom è infatti stato anche accusato di ricettazione. L'uomo infatti aveva in casa sei orologi di valore, merce frutto di colpi avvenuti tra settembre 2019 e gennaio 2020 nei comuni di Campli, Notaresco, Mosciano, Sant'Angelo e i restanti nella provincia di Ascoli Piceno. Una banda, come si diceva, stanata lo scorso luglio è composta da quattro persone tra i 34 e i 27 anni, arrestati in flagranza di reato a Colonnella nel pomeriggio di quel luglio. Allora vennero tratti in arresto subito dopo aver compiuto un furto in una villetta unifamiliare di Ascoli Piceno, all'interno della quale erano entrati forzando la porta finestra della camera da letto.